La grande box torna ad Arezzo venerdì sera al Teatro Tenda o Palatenda come lo possiamo definire per l'occasione, una serie di incontri che riguarderanno la box Nicky, il match clou però sarà quello di Adriano Nicky con Sezzabo che chiuderà la serata. Allora Adriano torni a combattere nella tua città. Sì esatto, sono onorato di ridare un po' di luce a questa città e provare a sfondare questo teatro con questo sport sarà la prima volta che si combatte dentro questo Teatro Tenda che a me piace molto sinceramente. Ho visto che Arezzo sta rispondendo alla grande e noi cercheremo di fare tutto per il lustro a questa città. Di che tipo di avversario si tratta? È un tecnico che mi piace fare anche un po' cazzotti ma è molto tecnico, è un bel pugile e ho visto che è un bello tenascio, ha fatto con pugili anche molto buoni. Per te cosa rappresenta questo incontro? Rappresenta una scelation per poter arrivare a fare dei titoli valevoli, sperando di arrivare a fare un titolo europeo, questo è il suo obiettivo, si sta lavorando per fare questo lavoro qui. E portarlo anche ad Arezzo? Sarà difficile portarlo ad Arezzo perché ci vorrà tanti soldi, ci ha voluto già tanti soldi e i sponsor che purtroppo pochissimi sono stati ma gli sponsor saranno sempre meno perché non è facile. Però chissà, magari se qualche buonanima ci aiutasse anche il bello sponsorizzato di sponsorizzazione a portarlo ad Arezzo, noi saremo ben fieri di cercare di portarlo ad Arezzo. Intanto combattiamo per portare il nostro pugilato ad Arezzo e già questo è tanto per la nostra città. Sappiamo che venerdì insomma si annuncia anche un bel pubblico. Sì, penso che ci sia un bel riscontro perché già una premendita sta andando molto bene. Chissà, poi lì sicuramente qualcuno viene che sa che sia veramente una bella serata, noi ci metterà tutto il nostro cuore per fare la meglio serata che possa venire. Senti, qui vediamo anche delle belle ragazze però, la box continua a tirare anche il mondo femminile. Abbiamo tutto, combatteranno una serata tre ragazze e poi di cui altri ragazzi, anche la mia ragazza che si allena eccetera, però lei non combatterà perché giustamente la tensione ce n'è già tanta. Però sono quattro ragazze che fanno pugilato e si rispetta davvero un bel pugilato completo, sia femminile che maschile. Arezzo risponderà penso bene anche sotto questo punto di vista. Allora, appuntamento venerdì dalle 21? Dalle 20 e 30 in poi la box Nicky sarà al Teatro Tenda di Arezzo accanto all'Ipercop. Per chi vuole venire un po' prima sarà anche il Paninaro Simone che è un cuore di Arezzo, perciò si spera di essere il completo.